La polizia ha diffuso un nuovo video relativo alla notte in cui è scomparsa Isabella 90. Fotogrammi che mostrano le auto di Freddy Sorgato e della sorella Debra insieme l'una dopo l'altra lungo le vie del centro di Padova tra Piazza Le Stanghe e Via Giotto. L'Audi bianca è quella di Freddy Sorgato, la Golfi bianca che segue appartiene invece a Deborah Sorgato. Due filmati che provengono da distinte telecamere di sorveglianza che a questo punto rappresentano una prova in più del coinvolgimento della sorella Deborah e della tabaccaia Manuela Cacco ritratta mentre passeggiava la sera stessa in centro città da altre telecamere.